Il Museo di Trento ospita fino al prossimo 1 marzo un'esposizione che privilegia la visione soggettiva di coloro che hanno avuto o hanno oggi un rapporto con il lupo. Un'occasione di riflessione sul ritorno naturale di questo predatore nei nostri boschi. Il conflitto con l'uomo, la ricerca scientifica e il futuro. La presenza del lupo, così come dell'orso, è oggetto di studio e monitoraggio sia in Alto Adige come in Trentino. In provincia di Bolzano come a Trento il lupo è arrivato spontaneamente, è già più di un esemplare identificato geneticamente soprattutto nella parte occidentale della provincia, Val d'Ultimo e Val Venosta e invece con l'orso qualche sconfinamento di qualche animale che dalla provincia di Trento soprattutto maschi e soprattutto giovani interessano ancora una volta di più la parte occidentale della provincia. Al Museo di Trento il rapporto tra uomo e lupo è messo in evidenza da una serie di corner interattivi, reperti storici ed attuali. Un cacciatore del paleolitico, un allevatore medievale, un allevatore dei giorni nostri, un turista, un ricercatore ed anche un bambino. Sono loro a raccontare il lupo partendo da un punto di vista personale ed emozionale per arrivare ad una visione oggettiva e scientificamente mediata. La mostra risponde ad una domanda, qual è l'importanza di avere orsi, lupi e linci nei boschi delle nostre montagne e indica le soluzioni per cercare un equilibrio tra queste meravigliose presenze della natura e le attività umane alpine, una convivenza possibile sulla base del rispetto e della tutela. Sul lupo ci aspettiamo un aumento progressivo anche nei prossimi anni perché è un fenomeno appunto a scala alpina. L'orso ha un aumento più contenuto e più limitato dovuto al fatto che c'è una piccola popolazione sorgente ancora molto limitata che appunto sta in Trentino Occidentale.